Venerdì nero per il trasporto aereo in Italia. Alla base dello sciopero generale di 24 ore c'è la vertenza Alitalia Ita per la quale i sindacati attendono un incontro urgente con i ministeri competenti. Alitalia ha annullato 161 dei 259 voli programmati per oggi, pari al 62%. Le destinazioni più colpite sono state quelle domestiche, da e verso le isole. All'altezza del Terminal 3 dell'aeroporto Leonardo da Vinci circa 300 lavoratori in protesta hanno cercato di sfondare il cordone della polizia. L'aeroporto è stato bloccato e la Roma a Fiumicino chiusa.